Rientra in parte l'emergenza in casa Pescara. Alberto Aquilani con le dovute precauzioni e se non ci saranno contrattempi nelle prossime ore sarà della partita. Il centrocampista romano uscito dal campo con una brutta ferita dopo lo scontro di gioco con Memushai a San Siro sarà in campo con una protezione alla zona dove sono stati applicati i punti di sutura. La gara è delicata, manca un cervello del centrocampo come Brugman, squalificato e Oddo non vuole rinunciare all'esperienza e alla classe di Aquilani che sarà affiancato da Memushai e da Verre. Quest'ultimo sembra aver superato i problemi alla pianta del piede e tornerà a disposizione nel ruolo originario e non in quello di trequartista nel quale è stato impiegato ad inizio stagione. Davanti fa ripuntati su Ray Manai che sarà il puntero scelto da Massimo Oddo. Migliorano le condizioni di Baebec ma un ruolo da titolare per il francese sarebbe una forzatura vista la facilità di ricaduta. Allora l'ex PSG può essere un'arma dalla panchina da dove può comunque incidere come fatto con l'Inter. Campagnaro che affiancherà Fornasier. Biraghi dovrebbe riprendere il posto sulla corsia Mancina a scapito di Crescensi. Insomma si delinea l'undici anti-Empoli. Anche in casa Toscana il tecnico Martuscello è al lavoro per individuare la squadra anti-Delfino. Mancheranno l'infortunato Laurini e lo squalificato Bellusci. L'ex Ciosic non è al meglio. Allora al centro della difesa sarà Barba a fare coppia con Costa. Nel 4-3-1-2 Saponara sarà il trequartista e uno tra Gilardino e Maccarone affiancherà il guizza ante Pucciarelli. Croce e crunici le mezze ali con Dius favorito su Jose Mauri per il posto davanti alla difesa. L'ultimo precedente all'Atletico Cornacchia non è un bel ricordo. Il Pescara di Marino venne battuto 1-2 dall'Empoli di Sarri nella stagione di Serie B 2013-2014 e quella gara fermò la risalita del Delfino e diede l'infa ai Toscani poi promossi in A. Eppure in terra abruzzese i precedenti 14 sorridono ai Biancazzurri vincenti otto volte a fronte di tre pareggi e tre sconfitte. L'ultima vittoria casalinga nella B 2010-2011 1-0 rete di Bonanni mentre l'unico precedente in Serie A risale alla stagione 87-88 finì 0-0 tra il Pescara di Galeone e l'Empoli di Salvemini.